Sono tornato da Carlo Mignano di Brenta dall'Ottica Rinaldo dove con Fiammetta abbiamo visto degli occhiali nuovi Fiammetta non riusciva più a vedermi questa cosa qua, questo proprio, che tra l'altro si è rotto poco prima Questi sono degli occhiali della Decathlon da due soldi che però mi hanno tenuto compagnia per un bel po' Il loro lavoro l'hanno fatto, indubbiamente ho provato degli occhiali che non hanno nulla a che vedere con questi Sì a livello di prezzo ovviamente ma di comodità, di lente Innanzitutto con questi occhiali la sera quando comunque comincia la cala del sole ed è un po' più buio non ci si vede la mia E qualcuno dirà ma allora non indossarli? Significa che non è mai andato a correre d'estate Comunque in bicicletta stare senza occhiali è molto difficile Ma anche a correre d'estate senza occhiali Soprattutto per il fatto che vado spesso a correre lungo Brenta ci sono una marea di moscerini I moscerini ti entrano negli occhi e da una cosa fastidiosissima quindi gli occhiali mi servono per bocca Con gli occhiali invece che mi ha dato fiammetta ci vede tutto di Dio E domani al mio primo triathlon userò gli occhiali nuovi Non si usa mai niente di nuovo nelle gare però faccio questa eccezione per gli occhiali Per cui ho chiesto un parere su Instagram Instagram questo qui per chi non mi segue vada a seguirmi Li pubblico più costantemente diciamo aggiornamenti sugli allenamenti Le sfide quotidiane, i fallimenti e varie cose di questo percorso Tra cui anche appunto la scelta di questo occhiali Intanto però dobbiamo preparare tutta la roba per domani Allora intanto l'integrazione Ho chiesto un parere a Nicola e mi ha detto che tipo di colazione affrontare Quindi domani mattina faccio una colazione normale Con appunto pane e marmellata senza esagerare Poi però un paio d'ore prima della partenza Quindi io calcolo di partire intorno a mezz'ora e mezzo Il giorno è 33 dovrebbe essere la mia batteria più o meno E due ore prima mangiare un bel piatto insomma di riso basmati Con olio, un po' di olio e del grano Poi prima di partire con la gara Un gel, finito al nuoto un altro gel prima della bici E un altro gel prima della corsa Poi mi ha detto di portarne anche Volendo anche una barretta Una barretta energetica Poi volendo anche un ulteriore gel per sicurezza Quindi intanto l'integrazione c'è Poi cartettoni per bici e corsa Le scarpe, eccole qua Per chi mi segue dall'inizio Si ricorderà delle scarpe della Notewheel Del 25esimo anniversario Che sono le scarpe che erano state fatte appunto Per festeggiare i 25 anni dalla nascita del brand Una bellissima storia tra l'altro Che sono una bianca e una nera Con questo effetto lucido Per me di un tamarro incredibile Però la storia che c'è alle spalle era molto bella Perché all'epoca serviva a farsi notare In mezzo ai brand storici che c'erano nel ciclismo E Notewheel quindi decise di fare questa partia per l'epoca Cioè una scarpa di un colore e una di un altro Però ragazzi la linea che fa la Fit Think per me Sarà che è un'azienda della zona con cui ho degli ottimi rapporti Ma non ce n'è Poi io ho parlato con Katia del reparto ricerca e sviluppo Mi ha raccontato un po' di cose meravigliose Cioè mi ha fatto vedere anche un paio di scarpe che usciranno fra un paio d'anni Lo studio che c'è, tutti i ragionamenti Con l'aiuto anche dei professionisti Una figata pazzesca Quindi scarpe La bici è già pronta Adesso questo lo tolgo Che è il porta cellulare Non mi servirà Controllata con il mio amico Malik Abbiamo sistemato un po' la catena Messo l'olio, tutto quanto Camera d'aria di riserva Il caschetto Poi mi porto via la sacchetta che mi hanno dato alla cortina dobiaco Mi servirà per mettersi dentro le cose I body Facciamo così Prendo la lista e controllo Allora La cuffia, la muta Che per ora ho usato solo una volta Gli occhialini Io ho ancora i secondi che ho comprato in realtà Però degli ottimi occhialini Devo dire questi qui dell'arena Il body Un paio di infradito Quindi borracce In questo caso Vi faccio accompagnare da I primi partner che ho trovato di questa fantastica avventura Cioè Undershield Con la loro bellissima borraccia Questa borraccia termica Va a mantenere la temperatura E in più me ne porto una terza Scrausa che avevo in casa Magari ci metto i sali O comunque dell'acqua in più Il portanumero Un piccolo asciugamano Perché il coach consiglia Quando si esce dall'acqua Prima di mettersi i calcettoni Per poi partire in bici Ci si può asciugare i tiri Però deve essere proprio piccolo Altrimenti i giudici potrebbero fare storie Quindi E lo prendo rosso Così magari lo noto di più nel cambio Nella zona cambio Anche piccolino Lo infilo nella scarpa Così Poi mi prenderò un cambio Per cambiarmi lì Mi stavo dimenticando Tipo una delle cose più importanti Che mi servono domani Tipo le scarpe da running Sono presso delle braghe più comode Perché cominciamo a fare Le rampaticando Le scarpe da running Il mio bellissimo body Della Three sports and the house Poi Il porta Pettorale Un fradito Il boy che non servirà Le scarpette da bici Con l'asciugamanino Per asciugarsi i piedi Prima di partire in bici Caschetto Tre borracce Tre gel Calsettoni della Undershield Di compressione Le scarpe da running La cuffia Gli occhialini E la muta Credo basta Adesso un bel piattino di pasta in bianco Certo di pollo Con le verdure Questa è la cena Che mi ha consigliato Nicola In direzione Bardolino Il triathlon olimpico Quindi Sono 1500 di nuoto 40 di bici E 10 di corsa Ore 9.20 Dovremmo arrivare Ritiro del pettorale Alle 10 Il bike check in Andiamo a mettere i numerini Sulla bici Sistemare la bici Eccetera Poi si mangia qualcosa Poi a mezzogiorno E 33 Dovrei partire Con le mie tifose preferite Che mi seguono Una delle due Non vedeva l'ora Di partire Stamattina Non dico quale La madre Come la vedi madre oggi Sto bello qua Sto bello Fa caldo Sto bello qua Sto bello qua Sto bello qua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti per il supporto, a chi è iscritto al canale, a chi non è iscritto invece lo faccia, molto semplice ma mi aiuta tantissimo e per chi vuole mi può anche seguire su Instagram, questo qui dove pubblico quotidianamente insomma vari aggiornamenti sulle sfide, gli allenamenti, i fallimenti, le cose che faccio insomma in questo percorso. Ci vediamo nel prossimo video, buona giornata. Ciao a tutti. Grazie a tutti.